Siamo con il dottor Francesco Malatesta, chirurgo estetico. Dottore, parliamo di rinoplastica. Quanti vorrebbero avere un bel naso? Probabilmente tutti, nel senso che il naso è un qualcosa di fondamentale per la struttura del volto, volto che è poi il primo bigliettore a visita quando ci presentiamo alle persone. Nel naso, in modo particolare, è essenziale il senso estetico, il senso estetico del chirurgo che deve andare di pari passo alla tecnica chirurgica. Senta, l'è capitato di trovarsi di fronte a qualcuno che arriva con un modello e che dice io voglio un naso così e che però lei sa che magari non è il naso giusto per quella persona e allora intavolare un dialogo per convincerla qual è il naso migliore? Ma il problema di chi arriva con la foto o di qualcun altro c'è spesso, non soltanto nel naso. Ma sicuramente nel naso, come tutto quello che guarda il volto, il problema è più importante perché appunto ognuno deve avere il suo naso. Ad esempio se uno ha degli zigomi molto larghi, una faccia molto rotonda e importante non gli si può mettere un naso, diciamo, alla francesina cosiddetto perché se no vediamo in giro delle persone e uno ci guarda quella persona e si è rifatto il naso. Ecco, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Che c'è qualcosa che non va. Perché il naso fatto bene è quello che non si vede che è stato rifatto. Senta dottore, quanto dura un intervento di rinoplastica e soprattutto mi chiedo se è doloroso? Dunque, per la durata ci sono diverse tecniche e non tutti i pazienti, diciamo, possono usufruire della stessa tecnica. Ci sono delle tecniche che in 20 minuti il naso è finito, a volte ci vuole un'ora e mezzo perché magari dobbiamo fare una rinoplastica di diverso tipo. Mi viene in mente per esempio nei nasi secondari, cioè che sono già stati operati o quelli che hanno avuto un trauma, per esempio. Per quanto riguarda il dolore, ecco, il dolore è una cosa curiosa perché tutti i pazienti hanno molta paura del dolore del naso perché si pensa a una botta sul naso che fa male. In realtà la botta sul naso, se si pensa, fa male lì per lì, non dopo 10 minuti. Quindi quando viene fatto l'intervento una persona dorme. Quindi poi dopo l'intervento il paziente e la paziente si sorprendono sempre perché il dolore non è stato quello che loro pensavano, anzi è un qualcosa che, diciamo, si affronta in maniera molto serena. Anche, precedo forse con una domanda riguardo il dolore, i famosi tamponi. Esatto. Cioè questo mito di cui questi tamponi vengono messi nel naso. In realtà in alcuni interventi neanche vengono messi. In alcuni si mettono, ma si mettono non più quei tamponi antichi di una volta, ma delle piccole spugnette che, diciamo, vengono riempite di acqua. Quindi per levarle veramente un attimo e non dà nessun tipo di fastidio. In alcuni si mettono, ma delle piccole spugnette che, diciamo, vengono riempite di acqua. Grazie. Grazie. Grazie.